Buongiorno dalla splendida Napoli. Anche oggi in un posto molto bello, un circolo, un circolo nautico sempre affacciato su questo splendido Vesuvio. Ma veniamo a noi. Ecco la terza parte di cui ti volevo parlare. Ieri abbiamo visto velocemente chi vuole, non vuole più gli immobili, appunto i don't want'ers, in particolare chi abbandona gli appartamenti. Un altro di questi soggetti e del terzo soggetto di questa saga, possiamo chiamarle di 20 soggetti di cui ti parlerò in questi giorni, sono quelli che hanno iniziato una ristrutturazione ma non l'hanno mai finita. Ti sarà capitato di entrare in un appartamento in vendita e vedere mezze cose fatte. Un bagno non finito, una cucina non finito, non hanno terminato i pavimenti. Capita che tu inizi a fare una ristrutturazione e poi non la termini perché hai finito il denaro. Ecco questi sono dei nostri potenziali clienti. Chi ce li segnala? Le imprese di costruzione. Perché lo fanno? Semplicemente perché devono avere dei soldi da queste persone. Quindi contattiamo le imprese di costruzione e possiamo avere queste informazioni. Ti ricordo che puoi leggere oltre i 60 articoli del mio sito www.antoneleone.net che trovi anche qui dopo questo video oppure su se stai guardando su YouTube e troverai tutta una serie di risorse e di informazioni interessanti. Quindi ti rimando al sito e ti auguro una buona giornata.